Ciao amici di Italia Talk Games, in attesa di tornare a giocare il campionato il prossimo 2 giugno, giovedì 2 giugno, dai mancano meno di due settimane, già qualche giorno è passato, in attesa che lunedì vi mostri la mia personale rivoluzione per la fase 2 della stagione 1 di Dream Team e anche per le prossime stagioni, cambio tutto, ve l'ho già detto, vedrete, vedrete lunedì. In attesa di tutto questo c'è il nostro amico Yung Misushi, del team Musashi, ovviamente ispirato a Oli e Benji, lo sapete, è un caro amico del canale Italia Talk Games, abbiamo già fatto delle collaborazioni per eventi, tornei e tutto quanto, con Rudy, eccetera, e appassionatissimo di football di PES, se questo video vi sarà utile non dovete ringraziare me, io sto solo da bando, cioè mettendo la voce a tutte le intuizioni che ha avuto lui e il suo gruppo, e io quindi lo ringrazio e ringraziatelo anche voi, Yung poi se vorrà sicuramente, se qualcuno ha dei dubbi sul contenuto di questo video, risponderà alle vostre domande direttamente qui sotto il video, quindi se avete domande lasciatele e lui sicuramente risponderà. Allora, Yung cosa ha fatto? Ha trovato un elemento che in realtà non dovrebbe essere lui a trovarlo, non dovrei essere pure io, sono degli elementi che dovrebbe dare Konami, ma sappiamo benissimo che dal punto di vista della comunicazione, lo abbiamo visto anche recentemente per quanto riguarda sempre il campionato, lascio un pochino a desiderare la software house nipponica. Allora, in tanti, in queste settimane di Dream Team mi chiedevate, ma com'è che i giocatori, quando vengono inseriti all'interno della squadra, a volte non solo non perdono punti, ma addirittura li guadagnano? Ecco, Yung ha capito come funziona, ha capito anche come funziona in relazione alla crescita dei giocatori utilizzando i punti ESP. Allora, è importante avere un livello di stile di gioco elevato, questo è fondamentale. Come vedete sulla destra lui ha 99, nella mia squadra fino a qualche giorno fa, vedrete lunedì cambierà tutto, io ero arrivato addirittura a 100, comunque 99-100 va bene. E come vedremo adesso nel filmato che ho avviato e che ha realizzato Yung, vedremo che anche non avendo aumenti di overall con i punti che utilizziamo tramite ESP, i giocatori, anche se non arrivano al massimo, non vedete un aumento in overall, vedrete poi che questo aumento arriva qui. Perché? Perché praticamente con lo stile di gioco, anche se non viene considerato dall'altra parte, è come dire, questi mezzi punti che si possono ottenere nei vari parametri del giocatore vanno ad aumentare l'overall a seconda dello stile di gioco. Guardate, ecco, questo l'ha realizzato Yung, vede Marco Sirent a 91, il progresso del giocatore, lui va ad aumentare il livello, 27, quindi ha preso due punti progresso. Allora, avvia la sessione di allenamento, ovviamente, allenamento completato con successo, guardate, lui aumenta il tiro in due, poi ci ripensa, ci ripensa, no, si mette, no, ecco, ci ripensa, mette uno in forza alti inferiori e uno forza in aria. No, è destrezza, no, che fa, che fa? Allora, destrezza, ok, come potete vedere è rimasto a 91 il giocatore, anche se ha dato i punti, ecco, però guardate che succede nello schema di gioco, guardate che succede nello schema di gioco. Tac, 94, 94, avete visto, in overall nel giocatore non è arrivato, ma qui si prende tre punti, perché ha aggiunto questi punti. Lo stile di gioco così alto, e Yung aveva un ottimo stile di gioco, cioè un'ottima corrispondenza, gli ha consentito di fare tre punti in più. Guardate cosa succede poi con Camaraa, eccolo. 87, guardate, aumenta i livelli, 34, due punti in più, procede, qui gli da uno in passaggio, no, ci ripensa, ecco, uno in dribbling, uno in destrezza, no, in forza arti inferiori, no, ci ripensa. In passaggio, ecco, usa i punti, guardate, anche lui, 87, non ha aumentato di un punto l'overall del giocatore. Andiamo a vedere nello schema di gioco, eccolo, tac, 90, aumentato di altri tre punti. Ecco, quindi, questo video a cosa ci serve? Ci serve a capire che alle tante cose importanti per lo stile di gioco, sia per migliorare la squadra, lo stile di gioco ti comporta che con una quantità di punti minore il giocatore acquisisce un maggior overall sullo schema di gioco e poi quindi in campo. Oltre a questo, ci dice pure che sostanzialmente, anche se voi non vedete l'overall aumentare nel vostro giocatore, se ha una buona sincronia, diciamo, con lo stile di gioco, se l'avete pompato dall'altra parte sulla corrispondenza con lo stile di gioco, non importa se non vedete l'overall aumentato, perché comunque dopo vi aumenta nello schema di gioco e quindi in campo. Jun cosa mi ha detto soprattutto? A questo punto io, più che vedere l'overall aumentare, vedo dove mi serve di più migliorare il giocatore a seconda del mio tipo di gioco, a seconda delle mie esigenze. Magari, adesso faccio un esempio, non dico che sia per Jun, ma Camarà, lo tengo lì, mediano, siccome voglio avere un mediano che pensi molto al reparto difensivo, magari metto molti punti difesa perché mi interessa quello. E anche se non vedo l'overall aumentare, preferisco aumentare lì, nonostante l'overall. Quello che Jun ci consiglia quindi è pensare soprattutto a quelle che sono le nostre esigenze tattiche, piuttosto che a pensare all'overall. Perché l'overall poi, se avete una buona corrispondenza tra il livello stile di gioco e il giocatore, cioè quindi lui ha contropiede veloce, 99, se Camarà è bello che sincronizzate a questo tipo di gioco, vedrete sostanzialmente aumentare l'overall comunque. Quindi pensate alle vostre esigenze per il vostro Dream Team, più che a pensare a vedere aumentare l'overall del giocatore. Tanto l'overall può aumentare di due, di tre punti, leggenda metropolitana si parla anche di quattro punti in più, però Jun non ha avuto modo di farmi il video. Quindi io spero che sia stato chiaro, ci siamo mandati tanti messaggi con Jun che dicevamo che non è facilissimo da spiegare. Spero che sia tutto chiaro, se comunque non sia sufficiente la mia spiegazione, lasciate le vostre domande o io o Jun risponderemo al più presto. Meglio lui perché è stato lui che è riuscito a trovare tutte le risposte alle questioni. Io ho cercato di comprenderlo, l'ho capito, però sempre comunicare in maniera indiretta non è la stessa cosa. Va bene, spero che questo video vi sia piaciuto, vi risulti utile poi per il vostro Dream Team. Se non siete iscritti ancora al canale, magari siete arrivati qui per caso, iscrivetevi subito al canale perché arriveranno tante novità ben prima che ricoprenda il campionato. Vi ringrazio se vorrete anche supportare o abbonandovi o lasciando un super grazie trovate quel cuoricino dove potete lasciare un'offerta. Se dovete fare acquisti su Amazon li potete fare passando per il link di affiliazione presente all'inizio della descrizione del video. A voi non costa un centesimo di più, ve lo giuro, non costa nulla di più, una piccolissima parte del vostro acquisto va al canale e potete, non per forza videogiochi, ma qualsiasi cosa acquistate. L'importante è cliccare su quel link presente all'inizio della descrizione del video. Io ringrazio ancora Yun per questo importante elemento che è importante, non doveva essere lui a scoprirlo, non doveva essere io a comunicarlo, doveva essere qualcun altro, cioè Konami, ma la community è forte nonostante tanti limiti sia da parte di Konami sia da parte di tanti haters che lasciano il tempo che trovano. Va bene, grazie per l'attenzione e appuntamento al prossimo video. Ciao!